Siamo in compagnia di Nicoletta Marchiandi, responsabile del settore innovazione della Camera di Commercio di Torino, Camera di Commercio protagonista in Fiera AET, è partner della manifestazione, in che cosa si esplicita questa partnership e qual è il vostro contributo come Camera di Commercio alla manifestazione di quest'anno? Sì, la Camera di Commercio di Torino è da molti anni sostenitore della manifestazione AET, che ha visto crescere con successo e che da tanti anni porta proprio qua in città le più interessanti tecnologie che riguardano il mondo della manifattura. Noi siamo particolarmente lieti e onorati di essere partner istituzionali perché la Camera di Commercio di Torino da molti anni ospita il punto impresa digitale, quindi da molti anni noi abbiamo a che fare con l'accelerazione digitale delle imprese e la manifestazione di oggi è una concreta dimostrazione di questo. Ma da qualche anno noi siamo anche partner istituzionali della European Digital Innovation Hub Expand, che tanto in questa manifestazione sta contribuendo. In particolare noi quest'anno siamo molto impegnati in iniziative legate alla Casa dell'intelligenza artificiale perché pensiamo che sia utile e doveroso da parte nostra portare alle aziende non solo una conoscenza teorica ma anche la dimostrazione pratica di quello che l'intelligenza può fare a favore di una piccola e media impresa. Ci rendiamo ben conto che il percorso non è semplice ma una manifestazione come quella di oggi dove noi stessi organizziamo insieme ai main partner seminari istituzionali, momenti formativi ma soprattutto portiamo le aziende a toccare con mano quelle tecnologie, diventa sempre di più un'operazione cruciale. È un modo non solo per portare le aziende del business ma anche competenza e forse è proprio la nostra missione che in questi anni ha rafforzato questo aspetto, portare competenza, in particolare in tema di digitalizzazione e di tecnologie digitali, a portata di PMI. Lei ha parlato giustamente di approccio sistemico e di attività che devono in qualche modo dialogare insieme per far sì che le imprese vedano nell'intelligenza artificiale un'opportunità irrinunciabile. Ecco ma dal vostro punto di vista in questo momento qual è il sentiment delle imprese rispetto all'intelligenza artificiale e soprattutto quali possono essere gli step che servono per fare in modo che le imprese agiscano concretamente a favore di questa tecnologia? Questa domanda mi porta a fare una riflessione di massima. È chiaro che l'intelligenza artificiale può volere tante tante cose. È una tecnologia abilitante di tantissimi processi. Immaginate per una PMI e in particolare una piccola media impresa tipica del nostro territorio che vede il 98% di imprese micro fatte da massimo 10 dipendenti. Ecco a queste imprese è chiaro che parlare di intelligenza artificiale e di robot non è semplice. Perché? Perché a molte imprese manca ancora la cultura del dato che è la base dell'informazione da organizzare per dare in passo a un algoritmo che poi la elabora. Allora quello che noi stiamo cercando di fare è attraverso un ciclo che si chiama intelligenza artificiale a portate di PMI cercare di andare a far sperimentare i primi applicativi più evidenti. E quindi cosa vuol dire la gestione dell'intelligenza artificiale per elaborare immagini? È abbastanza facile come concetto. Oppure cosa vuol dire l'intelligenza artificiale per elaborare testi? E allora andiamo a far concretamente provare alle piccole e medie imprese delle applicativi come CRGPT da un lato oppure intelligenza artificiale applicata a immagini come MidJourney o altre software che usano questi algoritmi intelligenti per aiutare un certo tipo di produzione. Diverso invece andare a spiegare alle PMI cosa vuol dire intelligenza artificiale nel miglioramento dei processi produttivi. Allora una manifestazione come quella di quest'oggi e di questi giorni ci permette di dimostrare e forse con la dimostrazione che i concetti vengono assimilati meglio ed è anche con la dimostrazione che magari l'imprenditore si rende conto che per utilizzare l'algoritmo che poi è un'intelligenza artificiale deve lui stesso organizzare le informazioni che darà l'algoritmo e quindi deve lui stesso organizzare i propri dati. Ecco questo è un po' il percorso che speriamo di continuare. Abbiamo iniziato a disegnarlo, abbiamo iniziato a proporlo ma è su questo che insisteremo. Non tanto che l'intelligenza artificiale vuol dire i robot che sostituiscono l'uomo perché non è vero e che è uno strumento che per essere utilizzato al meglio deve essere capito ma gli input devono essere organizzati. In Camera di Commercio di recente abbiamo sempre fatto questo paragone. È un po' come dire a qualcuno utilizza la calcolatrice ma se non sa neanche cosa sono i numeri è veramente inutile dire utilizza la calcolatrice. Allora noi siamo su questo lato delle imprese, aiutarle a comprendere il valore dei dati concretamente facendo vedere che il dato è un asset che ha lo stesso valore del denaro e che a maggior ragione può essere valorizzato con dei nuovi strumenti tecnologici basati su degli algoritmi. Benissimo, ringraziamo Nicoletta Marchiandi responsabile dell'innovazione della Camera di Commercio di Torino. Grazie.